La protesta dei lavoratori Tercop continua negli anni, oggi a sostegno anche due sindacati, la CGL e la CISL, ma è cambiato qualcosa negli anni a favore dei lavoratori? No, purtroppo negli anni non è cambiato nulla se non si è ampliata l'insicurezza e la precarietà di questo appalto che di fatto dopo 12 anni è arrivato comunque a un punto decisivo, per cui o si andrà al dramma sociale, quindi la perdita di posti di lavoro, oppure la città di Teramo avrà l'occasione finalmente per dire a questi lavoratori che il calvario è finito. Oggi in discussione c'è la gara ponte. Sì, c'è la discussione della gara ponte e noi chiediamo al sindaco due cose. Uno è il ritiro della gara ponte e poi un'altra situazione che dobbiamo chiedere è comunque far rimanere i 28 lavoratori alle stesse condizioni economiche e retributive della vecchia gestione. Quindi 28 lavoratori a tempo pieno. Questa gara addirittura fu sotto la gestione commissariale indetta, questo obbrobrio di gara che contestammo già all'epoca, gli stessi sindacati la contestarono, poi è stata ripresa dagli uffici anche sotto questa amministrazione, è stata ripresa e quindi se andava contestata prima andava contestata anche oggi. Quindi noi la contestiamo da anni questa gara perché in sostanza si riduce il comune a far cassa a danno dei lavoratori. Ovviamente i lavoratori che in teoria si vogliono tutelare e invece sarebbero estremamente penalizzati da questo bando di gara. Basti pensare che per un solo anno di gestione il comune pretende minimo 200 mila euro di canone quando attualmente se ne pagano 120 mila euro. 200 mila euro poi soggetti anche al rialzo. Ovviamente nonostante poi l'investimento di almeno 50 mila euro sui parcometri, cioè tutti i soldi che ovviamente i lavoratori dovrebbero sborsare di tasca loro e togliendoli dai già modesti stipendi.